e bello a tutti ragazzi e ragazze di questo nuovissimo video io sono l'azzo e oggi io non ho più moltissima voce e spero si senta potrebbe essere rischioso sta partita molto direi molto molto ok ho capito allora ragazzi facciamo su impostazioni torino ecco allora qu'è stella gasta maniglia squadra e ora facciamo un paio di partite in bs attacco perché ritiriamo tanto questo ok andiamo a sbloccare questo siamo pronti per mettere in bs attacco uno contro uno solo difesa cioè il tuo avversario giocherà solo in difesa cioè il suo computer giocherà in difesa e tu giocherai su questo il tuo computer giocherà con il tuo computer questo è il tuo computer 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 Allora abbiamo ripreso la registrazione Vedo cosa è andare a giocare Cosa mi stai dicendo? Sei serio? Non scherzi bene Non scherzi bene Non scherzi bene domandiii si vabbè non mi ascolta faccio quello che volevo mannaggia a te guarda mannaggia a te e non mi ascolta riusc allah avanti avanti i avanti sisi Basta signore! Ho completato un attività Andiamo! L'osservatore PL Mh 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 non c'è bene i giochi di riferimento hanno preso anche con le altre modalità taglia dentro non ho detto che ma raga per un canto di rosa che buone raga che azione 7 minuti 7 minuti si come una prova raga bello non hanno crudo niente anzi vi faccio vedere anche se lei voglio farvi vedere no perchè ah questo è il prego di tutta la partita ok che poi raga qui giocavo sulla linea del fuori bella soddisfazione ci sta dunque non ha inquadrato la rete mi dispiacco è per lui vai 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 che te lo fai scazzo bravo 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 cork bravi 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 sapete giocare mi dicono nascia nascia bravo ok 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 qua ok 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 non è un'intera che non dai voi non è un campione si ti piace mannacia te, mannacia te scusate però bello 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 vai vai la vi tolta del senzio no c'è si bravo no c'è a te e cos'altro bello bello ci ho terminato bravo basta vai vai mi scelgo te e sto schifo scelgo te e niente scelgo te basta no ma non c'è il portiere ok no la partita è anche finita quindi andiamo a vincere noi del senso di gioco e andiamo 77 può battere 80 certo che può battere vi saluto al tuo gusto per la distribuzione e ci vediamo al prossimo video ciao